Il volontariato. Cos'è il volontariato? Se non sorriso e gioia, unione e speranza, ma anche sole nella tempesta? È luce al posto delle tenebre, forza invece che disperazione, sensibilità al posto dell'indifferenza, fiducia invece che pessimismo. Il volontariato è un dono per chi riceve, ma anche per chi dà. C'è profonda condivisione con l'altro e nessuna forma di discriminazione. È una pillola contro l'egoismo, una cura contro l'indifferenza, un elisir di giovenezza, una strada per la felicità. Dona anche se pensi di non avere, scoprirai di essere ricco. Povero nel mondo, forse, ma ricco nella tua anima.